Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di pesche veloce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, burro morbido, amaretto di saronno che è facoltativo, pesche sciroppate, uova, lievito per dolci vanigliato, sale, pasta di limone. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. e riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per 6 minuti 37 gradi, velocità 4. Aggiungere il burro la farina la pasta di limone l'amaretto di saronno che è facoltativo il lievito e il sale ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Versare il composto in una tortiera da 26 cm ben imburrata. mettere le pesche sulla superficie cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti fare la prova a stecchino. La torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo spolverizzare con zucchero a bello e servire. Torta di pesche veloce grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!